Le cose vanno meglio. Il mondo è migliorato. Anche se non c'è la guerra, non c'è la pace. Sta arrivando. Lo chiamano Apocalisse. È una specie di Dio. Per migliaia di anni ha abitato mutanti per assumere i loro poteri. Ha sempre avuto quattro seguaci. Come i quattro dell'Apocalisse. Eric, non unirti a loro. Qualunque cosa tu creda di aver visto in me, l'ho sepolta con la mia famiglia. Insieme ripuliremo la terra. Tutto ciò che hanno edificato cadrà. E dalle generi del loro mondo ne costruiranno uno migliore. Non avevo mai sentito un potere simile. Sars! Lo hanno rapito, Revan. Il mondo ha bisogno degli X-Men. Non sono un'eroina. Gli studenti ti ammirano. Insegnerò una cosa ai tuoi ragazzi. Gli insegnerò a combattere. Seguimi! Sei tu. Non lo temo. Magneto è mio padre. Cosa? Lui e mia madre hanno fatto... Sì, ho capito. Non tutti riusciamo a controllare i nostri poteri. Non fatelo. Apocalisse vuole distruggere il mondo. Siamo tutti noi contro un dio e gli esseri più potenti della Terra. Dimenticate quello che credete di sapere. Niente ha più importanza. Non siete più studenti. Noi gli toglieremo tutto. Siete X-Men. Vi siete dati da fare? Ci hanno dato una mano. Siete X-Men.